Ma Buon Natale! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te anche per il Natale 2018. Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale a tutti. Che sia un giorno gioioso e meraviglioso, pieno di speranza, amore e voglia di fare per il futuro. Auguri, auguri a tutti, alle vostre famiglie, a voi, soprattutto a voi, ai vostri piccolini, ai vostri grandicini, a tutti ragazzi. Buon Natale! Spero che Babbo Natale sia stato generoso con voi, ma non parlo in termini materiali, parlo proprio in termini di intenti. Spero che vi abbia profuso gioia e fattività. Spero che dal sacco abbia tirato fuori tanta voglia di fare per tutti voi e voglia di creare. Spero che abbia tirato fuori tanta fantasia e tanto colore per le vostre vite. Spero che abbia tirato fuori tanta tranquillità e tanta serenità per poter esplicare tutte queste belle cose che ho detto prima. Io sono un po' con voi, ogni anno mi affaccio timidamente ma neanche tanto nelle vostre case per dirvi va tutto bene e se non va bene non vi preoccupate, passerà, passerà tutto e sarà di nuovo la vita che avete desiderato di vivere. Sono momenti, ci sono momenti belli, ci sono momenti brutti. Io spero che questo Natale sia bello per tutti, ma se non lo è abbiate pazienza. Il prossimo lo sarà di certo. Io vi voglio un gran bene, vi auguro ogni bene a tutti voi. Vi auguro che la vostra vita sia un cumulo di proposizioni, di fantasia, di creatività, di colori. E vi auguro soprattutto di avere la voglia e la forza per cercare nelle vostre vite tutto questo. Spero che il Natale abbia portato quantomeno un po' di luce, anche se i periodi non sono sempre molto luminosi e vi auguro di passarlo con le persone e nei modi che più desiderate. E se siete qui a guardarmi, grazie per darmi questi cinque minuti del vostro Natale e per condividerlo anche con me. Che la luce di nostro Signore illumini le vostre menti e le vostre vite e se non ci credete che la luce del bagliore del Natale vi faccia almeno scaturire un sorriso, anche solo per questo giorno. Vi mando un grande bacio, grazie per essere stati con me lungo tutto questo anno, da Natale a Natale. Spero che con questa Maratona del Natale vi abbia tenuto compagnia nel modo più gioioso possibile. I video di Natale non sono ancora finiti, ancora c'è Capodanno, c'è l'Epifania, c'è ancora molta roba da fare insieme. Quindi il mio non è uno stop alla creatività, ma un ci vediamo al prossimo video. Per adesso godetevi il vostro Natale e grazie per avermi ospitato in casa vostra anche oggi. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, Buon Natale a tutti, vi voglio sinceramente bene. Ciao!